L'abito da sposo viene scelto in base allo stile dell'abito da sposa. Oggi vi proponiamo tre modelli. Abbiamo il mezzo tight rivisitato, abbiamo lo smoking classico con lo scollo a scialle e per finire abbiamo uno smoking un po' più particolare, damascato con lo scollo punta di lancia. In entrambi i casi gli smoking vengono accompagnati dal papillon e dalla camicia col colletto diplomatico.